ciao amici di bieppi qualcosa è stato fatto nulla è stato fatto tanto per citare lo stesso gianluca grassadogna dopo la vittoria con il cittadella perché vincere al tombolato è stato sicuramente importante lo è stato per motivi di classifica il pescara accorcia rispetto alla zona play out adesso distante quattro punti e questo grazie anche alla contemporanea sconfitta del cosenza la vittoria è stata importante a livello psicologico perché aiuterà a lavorare meglio nei prossimi giorni accrescerà l'autostima del gruppo ma certo il gol in extremes di hot guard non può cancellare d'incanto tutti i problemi e i limiti che il pescara ha evidenziato fino a qui anche a cittadella infatti ha creato pochissimo anche a cittadella per motivi tattici strategici e anche caratteriali ha avuto parecchia difficoltà ad attaccare la metà campo e l'area di rigore degli avversari insomma il pescara porta a casa volentieri i tre punti il terzo risultato utile consecutivo con in questo ciclo di partite un solo gol subito questa mi sembra forse un po la grande novità con l'arrivo di grassadogna ma va da sé che soltanto con la continuità di risultati con il miglioramento della produzione offensiva il progetto salvezza potrà continuare a essere veramente edificabile vi happy alla prossima